Furia del presidente del Napoli Aurelio de Laurentiis contro la Juventus, non deve andare al mondiale per club al posto del Napoli. Ieri il presidentissimo del Napoli Aurelio de Laurentiis è stato ospite del Business of Football Summit organizzato, nella City di Londra dalla rivista del Financial Times, dove ha rilasciato delle vere e proprie dichiarazioni bomba. Come sapete nel 2025 per la prima volta nel periodo estivo si terrà il mondiale per club che, vedrà come protagoniste le principali squadre di club di ogni paese. Per decidere quali saranno le squadre che parteciperanno ci sono due algoritmi uno proposto dalla FIFA e una, dalla UEFA, al momento in cui vi stiamo scrivendo sembra che sia privilegiato quello FIFA. In entrambi i casi si assegna alle squadre che hanno partecipato alla Champions League dal 2020 al 2000, 24 un punteggio a seconda delle vittorie conseguite e a seconda dei traguardi raggiunti. Ossia ottavi di finale, quarti, semifinale, finale. Che venga scelto l'algoritmo FIFA o UEFA, l'Inter è già qualificata con largo anticipo. Mentre per quanto riguarda la seconda squadra a qualificarsi per l'Italia la Juventus è davanti al Napoli. Infatti il Napoli per strappare un posto dovrebbe arrivare in finale o semifinale a seconda dei suddetti algoritmi. Nel caso il Napoli dovesse arrivare in semifinale con l'algoritmo UEFA andrebbe a pari punti con la Juventus, mentre con l'algoritmo FIFA dovrebbe arrivare in finale. Insomma vedendo le squadre che giocano in Europa obiettivi non semplici da raggiungere. Ma il vulcanico presidente del Napoli Aurelio de Laurentiis non ci sta e dice. A me dispiace perché la Juve è stata punita dalla UEFA che quest'anno li ha estromessi dalle coppe europee. Io, se dovessi battere il Barcellona e dovessi successivamente fare un pareggio e una vittoria, di diritto dovrei andare io, ma di diritto dovrei andarci comunque perché se la Juve è stata eliminata dalle coppe europee non dovrebbe essere ammessa al mondiale per club. Fermo restando che questa competizione ci creerà mille problemi per il successivo campionato nazionale. Ovviamente il mondiale per club è importante anche dal punto di visto economico. Infatti le squadre di club che parteciperanno avranno introiti che andranno sui 50 o 60 milioni di euro. Ma Aurelio de Laurentiis dice la sua anche sulla spinosa della Superlega. Infatti esclama il presidentissimo del Napoli che. Sono interessato? Dieci anni fa proposi un campionato europeo. Il modello Champions coi sorteggi non mi piace, io voglio giocare contro tutti e quindi voglio fare un campionato vero, ma europeo e non nazionale, per quelli che hanno raggiunto determinati risultati. Quindi le squadre possono cambiare. Poi è venuta fuori la Superlega. A me è servita perché in quel momento ero contrario ai fondi, così dissi ad Agnelli di votare contro, infatti insieme abbiamo mandato a fondo il fondo. Il problema dei fondi è che non sanno di calcio e l'hanno dimostrato in sei mesi di negoziazioni. Alla Superlega sarò favorevole se sarà in grado di essere democraticamente sul mercato e assolverà dunque al problema del merito perché bisogna partecipare per merito.